Il progetto CRS, per saperne di più, aveva come finalità appunto quella di promuovere l'uso della CRS e informare i cittadini propriamente sugli usi della Carta regionale dei servizi. Il progetto si concludeva poi con un concorso cui si poteva partecipare sia a livello di classe, con una campagna di comunicazione, sia a livello individuale, riportando appunto una testimonianza dell'aver insegnato, dell'essersi fatti formatori dell'uso della CRS. E in questa sede sono ben lieta di annunciare che la classe Quarta A e N dell'Istituto Valle Seriana ha vinto a livello di classe la selezione provinciale, mentre uno degli studenti, Sebastiano Emma, ha vinto a livello regionale la sezione individuale. Questo pomeriggio è stata data la notizia della premiazione di due progetti presentati appunto in regione da quest'Istituto. Quali sono? Allora, i due progetti sono uno a livello individuale, vinto da Emma Sebastiano, della Quarta Elettronica e Telecomunicazione appunto dell'ISIS, che ha realizzato una videoguida su come si usa, come si installa il software per la Carta regionale dei servizi. E l'altro progetto invece riguarda uno sportello di consulenza e di formazione rivolto alla popolazione del territorio. Con popolazione del territorio si intende sia gli studenti, i genitori, i docenti e non docenti, cioè il personale della scuola, e anche la cittadinanza. Sistematicamente vengono organizzati degli incontri, è già stato fatto uno per gli studenti il 18 di aprile, oggi è stato fatto per la popolazione, dove si impara a installare e a utilizzare la Carta regionale dei servizi. Successivamente verranno fatti altri incontri e c'è anche la possibilità di accedere nell'orario di apertura della segreteria della scuola, di accedere appunto a richiedere un intervento specifico di assistenza e di consulenza sull'uso della Carta regionale dei servizi, in quanto ci siamo classificati come CRS Center, proprio come assistenza e servizio al territorio. Grazie alle competenze informatiche acquisite dai ragazzi di elettronica e telecomunicazioni, siamo riusciti a sviluppare questo progetto in collaborazione con la fabbrica per Regione Lombardia.